Io credo che sia aumentato in queste settimane il livello di confusione politica generale nel nostro paese e la cosa che mi colpisce di più è questa osservazione che possiamo fare tutti quanti. Voi ricordate che per un anno, due anni, tre anni c'è stata una polemica violenta contro il mondo politico, contro la casta famosa, Roma ladrona, il ceto politico nazionale, i deputati, i senatori, i partiti, una polemica di anni contro questo mondo descritto come il peggio che si potesse immaginare per la vita degli esseri umani. Dopodiché scopriamo che tutti quanti vogliono fare la corsa per entrare nel mondo della politica, è incredibile. Io pensavo che la cosa non interessava più a nessuno e invece abbiamo scoperto che sono interessati a fare i politici, anzi i politicanti, Mario Monti, poi c'è Beppe Grillo, poi è arrivato Ingroia, di cui avvertivamo la mancanza in maniera acuta, poi avremo Oscar Giannino che fa un'altra lista, poi si è formato il partito Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta e siamo tutti patrioti, poi si sta formando la lista del grande sud e poi non so quante liste e listarelle si formeranno ancora. Conclusione, erano tutti disgustati della politica e del mondo politico e sono tutti in corsa per entrare a far parte del mondo politico e della casta. In tutto questo io credo che l'elemento di maggiore anomalia e il contributo più forte a fare aumentare la confusione generale in Italia è venuto niente meno che da Mario Monti e io mi sento quasi un orfanello. Avevo guardato a Mario Monti come ha una immagine nuova della vita politica italiana, ma una personalità distaccata dalla bassa cucina della politica e che cosa sono costretto a constatare con una grande e bruciante delusione da parte mia. Sono costretto a contemplare nell'ultimo mese questa trasformazione da statista a politicante che ha avuto Mario Monti. È una delle trasformazioni più straordinarie. Io pure ho qualche decennio di consuetudine con le vicende della politica delle istituzioni, ma una trasformazione così rapida e così profonda, un cambio di pelle e così radicale non lo avevo mai visto. Un mese e un uomo che sembrava distaccato, lontano dalle vicende, i partiti, le beche, le candidature, le liste, incredibilmente, diventa il rappresentante di alcuni fra gli esponenti più stagionati del ceto politico italiano, fini, casini. Vedrete poi quando faranno le liste quale sarà tutta la compagnia. Quello che era parso un uomo al di sopra delle parti ha deciso di diventare il rappresentante in nome del rinnovamento del partito che, l'Udc, era pienamente dentro il governo della regione Lazio insieme a Fiorito, Polverini e Compagnia Bell, che esprimeva in Sicilia Totò Cuffaro, Vasa Vasa, Cannoli a tutti, sempre il nome del rinnovamento e dello stile british del rinnovamento, perché i bocconiani sono così, sono sempre, anche se dietro hanno Totò Cuffaro, però il vestito è sempre a Righine. Che tristezza, che tristezza, che delusione dover constatare questo percorso di trasformazione da statista politicante e questo trasformarsi di Mario Monti in uno degli esponenti più straordinari, la storia lo ricorderà così, del trasformismo italiano. Incredibile.